Ciao, sono Nicola Sorbini, bentornati tutti quanti dalle ferie se ancora eri a goderti il mare. Oggi voglio parlarti dell'ipertrofia muscolare ed in particolar modo dei meccanismi che innescano l'ipertrofia muscolare, che sono la tensione meccanica, lo stress metabolico ed il danno muscolare. Non tutte e tre hanno la stessa valenza, lo scoprerai a breve. Per farlo però utilizzo non questo mio video che è soltanto di presentazione, ma un video estratto dal mio videocorso in uscita su nicolasorbini.it che tratterà l'allenamento con i pesi e la teoria e i principi alla base proprio dell'allenamento con i pesi, allenamento contro resistenze. Sarà un videocorso di un'ora e 40 minuti che potrai scaricare sul tuo computer o sul tuo smartphone e tratterà tutta la teoria di base che serve a un bodybuilder, a un powerlifter, a uno sportivo, a chiunque voglia migliorare la propria composizione corporea e la propria performance, attraverso l'utilizzo dei pesi. Quindi smetto di parlare qua, troverai poi il link del videocorso completo sotto in descrizione video. Come sempre ti chiedo di lasciare un like se apprendi qualcosa e se ti è piaciuto e buona visione. Alla prossima! Vediamo adesso quali sono i meccanismi principali per indurre ipertrofia, quindi costruire massa muscolare, e sono principalmente la tensione meccanica, quella più importante, lo stress metabolico ed il danno muscolare. Vediamone adesso uno per uno. La tensione meccanica indubbiamente è la più importante e semplicemente sta a significare la tensione effettiva che subiscono i muscoli attraverso il carico esterno e può essere una tensione sia passiva, quindi nell'eccentrica, che attiva nella concentrica. Dobbiamo cercare questa tensione su basse e medie ripetizioni ad alti e medi carichi allenanti, quindi sia nei 4x5, 5x5, 4x6, fino al 4x8, 4x10, 4x12. Logicamente cercheremo questa tensione sul fulmrom in un movimento dinamico, infatti la tensione meccanica è proprio su un movimento dinamico e non la ricerchiamo ad esempio con esercizi di isometria. Lo stress metabolico ha invece un ruolo inferiore, ma comunque importante per quanto riguarda l'ipertrofia. Sostanzialmente è la ricerca del celebre pump che tanto amava Arnold. È quella sensazione di bruciore che abbiamo nel muscolo target che stiamo allenando generalmente ad alte ripetizioni. Quindi sviluppa ipertrofia tramite meccanismi che sono però diversi dalla tensione meccanica, motivo per cui all'interno di un allenamento e di un programma di allenamento dovremo variare sia a livello di tensione meccanica che a livello di stress metabolico. Dovremmo ricercare entrambi, perché entrambi hanno un ruolo per l'ipertrofia, ma soprattutto innescano meccanismi che sono diversi e quindi potremo non massimizzare i guadagni ipertrofici utilizzando soltanto tecniche derivanti che si focalizzano sulla tensione meccanica. Dovremmo anche utilizzare tecniche di stress metabolico per essere sicuri di sviluppare appieno l'ipertrofia. Generalmente ricerchiamo lo stress metabolico su medie e alte ripetizioni a carichi medio-bassi e bassi. Sostanzialmente stiamo cercando di accumulare più metaboliti possibili all'interno del muscolo target. Lo stress metabolico lo si ricerca anche nel katsu training, ovvero l'occlusion training, che causa ipertrofia nonostante una tensione meccanica bassissima. Infatti l'occlusion training ci spiega e ci fa capire che effettivamente lo stress metabolico utilizza vie diverse per indurre ipertrofia, perché quando facciamo l'occlusion training e otteniamo ipertrofia nonostante carichi bassissimi e una tensione meccanica quindi super ridotta. Perché cresce comunque il muscolo? Proprio perché vi è un accumulo di metaboliti molto elevato all'interno del muscolo. Per chi non fosse familiare con l'occlusion training, semplicemente si parla di occlusion training per quel tipo di allenamento grazie al quale stiamo riducendo il flusso sanguigno al muscolo target. Generalmente si fa occlusion training sulle braccia, ad esempio, nel quale ci metteremo dei lacci emostatici sostanzialmente che stringono il muscolo e farà sì che il flusso sanguigno sarà diminuito. Questo contribuirà a far cumulare metaboliti in rapido tempo anche a carichi bassissimi. Qui lo stress metabolico davvero è importante per un bodybuilder in particolare. Logicamente non si parla di questo tipo di metodiche e di stress per quanto concerne chi allena la forza. Vediamo quindi il danno muscolare che più che il terzo meccanismo dell'ipertrofia è un derivato, è un derivato della tensione meccanica e dello stress metabolico apportato al muscolo. E infatti ha un ruolo molto marginale, molto minore nello sviluppo della massa muscolare. Addirittura, in realtà, la scienza sta ancora cercando di capire quanto effettivamente il danno muscolare contribuisca ai meccanismi ipertrofici. Nella maggior parte degli studi, nella maggior parte degli autori d'oltreoceano, si parla di danno muscolare proprio come un derivato della tensione meccanica, cioè quello che accade in seguito alla tensione che abbiamo generato e applicato sui muscoli. Quello che è però importante quindi capire è che questi tre meccanismi sono comunque interconnessi e legati fra di loro. E quando ci alleniamo, ad esempio, con uno scopo di tensione meccanica, stiamo cercando di applicare tensione, sicuramente ci sarà anche una componente di stress metabolico e via dicendo. E in entrambi i casi andremo a procurare poi del danno effettivo al muscolo che grazie al recupero poi crescerà. Vediamo però quindi come possiamo mettere in pratica questi meccanismi. I due meccanismi principali, quindi tensione meccanica e stress metabolico, devono essere entrambi utilizzati, come abbiamo già detto, per incrementare la massa muscolare. Come farlo però? Semplicemente possiamo decidere in base al tipo di esercizio e al muscolo. Ad esempio alcuni esercizi si prestano molto bene al lavoro di tensione meccanica, come ad esempio lo squat o la panca piana, mentre altri si prestano molto bene per uno scopo più da stress metabolico. Ad esempio una chest press si presta molto bene a cercare di accumulare più metaboliti possibili. Quindi ad esempio una chest press possiamo farla molto bene con un 4x15 e pause brevi nel tentativo di appunto accumulare più metaboliti possibili all'interno del muscolo, mentre invece una panca piana che è un esercizio che si presta molto bene a carichi elevati e comunque al sovraccarico progressivo, su questo esercizio sarà meglio ricercare più tensione meccanica. Quindi dobbiamo utilizzare tutti i tools che abbiamo a nostra disposizione e saperli programmare all'interno del microciclo e del mesociclo. Vediamo alcuni consigli pratici di Brett Contreras. Diventare forti nei fondamentali e nei multiarticolari su più range di ripetizioni, quindi attenzione, diventare forti non significa soltanto aumentare il massimale, ma significa diventare forti anche sulle 4, 6, 8 e 10 ripetizioni. Ecco, fare questo, diventare forti in più range ci garantirà l'80% del risultato finale che otterremo grazie all'allenamento a livello ipertrofico e il restante 20% dello sviluppo totale ce lo potrà da dare invece il lavoro di stress metabolico. Entrambi i lavori quindi funzionano, entrambi i lavori stimolano la massa muscolare, ma Brett Contreras sta cercando di dirci concentratevi principalmente e primariamente sul lavoro di tensione meccanica e sul diventare forti su più range di ripetizioni. Il lavoro di stress metabolico si serve, si è importante e si genera massa muscolare, ma non è così importante come diventare forti e quindi creare molta tensione meccanica sui muscoli in un range di ripetizioni medio-basso. Come possiamo allenarci quindi? Nuovamente abbiamo tanti tools a nostra disposizione. Abbiamo le ripetizioni in riserva, il lavoro ad RPE e l'autoregolazione, abbiamo il cedimento muscolare, così come abbiamo il lavoro a percentuali. Possiamo vederli uno ad uno. Grazie a tutti.